Macron non è la prima volta, e lo ringrazio, che ha usato parole di ammirazione negli ultimi anni per Napoli, ricordo lo commentammo anche un'altra volta, però di fronte a un'intervista importante rete televisiva nazionale, in un momento di ascolti significativi, il capo della Francia da un punto di vista politico istituzionale, dica che le due capitali europee sono Parigi e Napoli, mi fa ricordare Stendhal quando venne a Napoli e entrò al Teatro San Carlo, teatro della città, ma ovviamente mi riempie di orgoglio e di lusinga, perché Parigi è stata e sarà per sempre una delle principali capitali del mondo ed europee, così come sono assolutamente convinto che lo ha anche Napoli, che ha una storia davvero antica e che sta diventando sempre di più, secondo me, un punto di riferimento, al di là di quello che è la sua storia, anche oggi nel mondo contemporaneo Napoli viene visto come un punto di riferimento importante per costruire un'Europa democratica fondata sui diritti e sulla giustizia sociale e sugli uguaglianzi.